La macchina dell'accoglienza dei comuni, delle associazioni e dei privati è partita ormai da giorni. In provincia di Potenza sono arrivati finora 82 cittadini ucraini, di questi 44 sono minorenni. Ma nell'attesa che altri giungano già nelle prossime ore, l'unità di crisi del centro coordinamento soccorsi convocato in prefettura nel capoluogo ha fatto il punto dei CAS e del sistema di accoglienza e integrazione SAI. Affidato alla protezione civile, la realizzazione di un hotspot a Tito nell'area di Santa Venere. Fino a 70 unità, nelle prime 48 ore, 72 ore. Qui potranno essere effettuate anche le operazioni di identificazione e la prima assistenza sanitaria, compresa ovviamente il tamponamento e la vaccinazione. 40 i comuni della provincia che hanno manifestato disponibilità, 13 quelli già operativi. Ieri a Matera sono arrivati 15 profughi di questi 7 bambini. Altre famiglie con minori sono attese la prossima settimana a Potenza. Per loro sarà messo a disposizione materiale informativo sulle procedure legali e sanitarie da ottemperare. Nella serata di ieri il Ministero dell'Interno e il Dipartimento della Protezione Civile hanno diramato le prime indicazioni operative, anche attraverso brochure in tre lingue, in italiano, in inglese e in ucraino.